Ben trovati a tutti, ancora una volta con gli approfondimenti di Bioblu ci occupiamo di libri perché chi ancora non lo sa Bioblu è una casa editrice di successo e quindi continuiamo a pubblicare i nostri libri su più svariati argomenti. Oggi tratteremo di un libro che penso sia molto attuale, attuale per la situazione che stiamo vivendo e poi anche per i temi che affronta da una prospettiva sicuramente originale. Sto parlando del libro Idee per un nuovo rinascimento, tutte le conoscenze segrete per creare una civiltà più consapevole. Ecco lo state vedendo, edito da Bioblu, l'autore è Valentino Bellucci, docente di storia e filosofia nei licei italiani, si dedica da anni allo studio della cultura vedica e indiana più in generale, di cultura anche esoterica, lo abbiamo in collegamento dai nostri studi di Roma. Bellucci, ben trovato. Ecco, grazie, ben trovati a voi. Eccoci, allora parliamo di questo libro che tra l'altro voglio ricordare ai nostri telespettatori ha una prefazione di Massimo Citro, autore di Eresia, pubblicato da Bioblu. Chi non l'ha fatto lo invito a leggerlo, ma lo hanno fatto già in oltre 10.000 e quindi non potete perderlo. Dunque, Bellucci, questo libro è, come dicevo, sicuramente parte da una prospettiva originale, perché in qualche modo lei intende rispondere anche a una necessità di ricerca di senso che la gente ha oggi in questo clima sicuramente poco libero che stiamo vivendo e questa ricerca di senso però non guarda solo a Occidente, ma guarda anche ad Oriente, giusto? Sì, sostanzialmente io ho scritto questo saggio per dare gli strumenti alle persone di oggi, coloro che cercano delle risposte alternative. L'alternativa è sempre il sintomo della libertà, perché se non mi vengono offerte alternative io non ho vera libertà, perché se mi dicono devi scegliere tra lo scientismo e i dogmi di certe religioni secolari, io non ho altra scelta, non ho una terza scelta. Ecco, quello che io in realtà nei miei 15 anni di ricerca ho cercato di fare, in questo libro ho messo alla fine la sintesi di una ricerca che è durata circa 15 anni, do, o almeno non cerco di darla io, ma cerco di proporre quello che tradizioni molto più antiche, che comunque si collegano anche alla nostra, perché vorrei ricordare che il pensiero greco ha le sue radici comunque nella tradizione orientale, di questo se volete ne parlo nel libro o ne possiamo parlare, e quindi do questa terza alternativa. Il lettore può trovare qualcosa che non è una scienza materialistica riduttiva e nemmeno una spiritualità dogmatica, ma qualcosa che sia una scienza che contempla altro oltre la materia e quindi si unisce anche alle ultime scoperte con dei testi indiani molto antichi, ma nello stesso tempo una spiritualità che va oltre quello che noi conosciamo nei dogmi dei monoteismi diciamo europei. Ecco, partiamo un attimo dall'inizio del suo libro, perché lei all'inizio passa in rassegna alcuni dogmi, chiamiamoli vecchi dogmi falliti, penso alla religione, il capitalismo e lo scientismo. Perché secondo lei questi dogmi hanno fallito? Qualcuno potrebbe obiettare che in fondo se siamo arrivati a questo livello di benessere tra virgolette è grazie al capitalismo e potrebbero ribattere anche coloro che supportano una visione religiosa, per esempio cristiana, che il cristianesimo ha portato molto alla civiltà. Perché secondo lei questi dogmi sono falliti e superati? Allora, io nel libro spiego questo fallimento, perché in realtà poi tutti questi dogmi sono collegati, perché c'è un collegamento comunque tra il capitalismo che senza un'etica protestante, che è comunque un'etica cristiana, comunque del cristianesimo del nord Europa, non ci sarebbe stato nessun capitalismo e lo scientismo nello stesso modo è stata una reazione ai dogmi della Chiesa Cattolica, ricordiamo il caso di Galileo Galilei e quindi soprattutto poi con l'illuminismo e il positivismo ottocentesco c'è stato un irrigidimento. È chiaro che con certe visioni limitate si possono avere dei benefici, però il beneficio poi bisogna vedere fino a che punto arriva, perché se poi il beneficio come un eccesso di tecnologia ci porta a ingabbiarci, allora le cose non vanno più. È come un vicolo cieco, è chiaro che fino a un certo punto siamo arrivati. Sostanzialmente questi dogmi hanno portato dei benefici, ma questi benefici ormai hanno un po' esaurito la loro carica, un po' come un pieno di benzina che è finito e ci troviamo verso un vicolo cieco. Io lo spiego nel saggio e spiego quali sono poi i grandi limiti, sia del capitalismo ma soprattutto dello scientismo, che poi alla fine fa pandan con i dogmi religiosi, perché entrambi danno una visione molto limitata dell'essere umano, non contemplano una spiritualità sia scientifica ma anche una spiritualità che va oltre i dogmi religiosi, cosa che fra l'altro in realtà le religioni sanno, perché io parlo molto della mistica nel mio libro e la mistica le religioni l'hanno sempre osteggiata i mistici delle loro tradizioni, perché ogni religione ha i suoi mistici. I mistici che erano persone che hanno con un percorso iniziatico esoterico scoperto una via diretta verso l'infinito, verso il divino, senza passare attraverso le gerarchie, attraverso i dogmi che invece l'istituzione propone. La cosa straordinaria è che questa esperienza mistica è confermata dalle ultime scoperte della fisica, che demoliscono i dogmi dello scientismo che la maggior parte delle persone pensa che sia la scienza, ma in realtà è soltanto una visione materialistica di fine ottocento che purtroppo oggi la biologia ancora segue, mentre invece sarebbe ora, e qui il mio amico dottor Citro è d'accordissimo, sarebbe ora di fare una medicina, una biologia quantistica, invece siamo ancora una medicina per ovvi motivi ottocentesca. Senta, questo tema è molto interessante perché noi in questo canale spesso ospitiamo anche persone che sono di religione cattolica e che sono contro lo scientismo appunto. Ecco, lei invece propone una prospettiva diversa che mi piacerebbe un po' approfondire, cioè lei dice che fondamentalmente alla base di questo scientismo c'è la religione, c'è il cristianesimo per quanto riguarda l'Occidente? Assolutamente sì, perché poi in realtà avendo fallito, perché con l'Ottocento, soprattutto con le rivoluzioni industriali, la prima, la seconda e adesso poi questa attuale, le persone hanno abbandonato come guida la cosiddetta Bibbia o altri testi sacri occidentali e quindi siccome l'essere umano comunque finché non ha raggiunto una certa maturità, e qui intendo l'umanità, la società occidentalizzata europea, ma non solo europea, è chiaro che abbandonando un dogma è passata ad un altro e quindi è passata da una religione a un altro tipo di religione, perché poi lo scientismo non è la scienza, perché la scienza si basa sul dubbio, sulla ricerca continua, mentre invece il positivista affermava che con la fisica si potevano, o con la matematica si potevano raggiungere verità assolute, verità assolute le troviamo solo nei dogmi, quindi in realtà senza il dogmatismo diciamo cristiano non ci sarebbe stato il terreno per il dogmatismo scientista, quindi è il momento di abbandonarli entrambi, perché altrimenti non se ne esce. E io nella seconda parte del libro propongo una letteratura dei testi di conoscenza antichissima, che sono i Purana, poi se volete ne parliamo, dove c'è una proposta ulteriore, sia da un punto di vista spirituale che da un punto di vista scientifico. Prima di arrivare a questa sua proposta vorrei ancora soffermarmi un attimo su questo aspetto, perché ovviamente la religione cristiana non esiste dalla notte dei tempi nel mondo e in Europa in particolare, quindi questo mutamento, questa che possiamo comunque in questo contesto definire decadenza, quando è iniziata? Cioè che cosa è accaduto a un certo punto che l'umanità adottando questa religione ha abbandonato una spiritualità diversa, preesistente rispetto a quella poi successiva? Sì, assolutamente sì, io traccio alcune storie alternative, perché poi un'altra cosa importante è il colonialismo, perché alla base di tutti i dogmi europei e occidentalizzati c'è il colonialismo europeo, che ha deciso a priori che tutti gli altri continenti erano civiltà inferiori e quindi da colonizzare. Questo colonialismo non ha colonizzato solo i territori, ma anche la mente delle persone, non solo la mente degli indiani o dell'America o dell'Africa, ma ha colonizzato anche la nostra mente, facendoci credere a una storia che è quella del progresso che riguarda solo l'Europa, mentre invece c'è una storia di civiltà più antiche, anche nella stessa Europa, io mi riferisco alla civiltà matriarcale della dea di cui parlo nel libro, che è finita circa 5.000 anni fa, perché ci sono state delle invasioni dal nord Europa, di tribù cosiddetti kurgan che hanno spazzato via questa civiltà, dove c'era il divino femminile. Ecco, una cosa importante che sta tornando, e io spero di dare un mio contributo, è di rivedere il divino non solo come maschile, ma soprattutto come femminile, perché il divino non può essere solo maschile, ma come minimo è maschio e femmina contemporaneamente. E questo si ritrova molto non solo nella dea di cui parla Jim Butasen, che era presente nel Mediterraneo circa 5.000 anni fa, ma soprattutto ancora oggi in Oriente, quindi la dea ancora oggi è adorata in India. Ovviamente questo richiede però una certa comprensione, bisogna capire chi è questa dea e come approcciarsi al divino femminile. Lei nella sua introduzione al libro scrive, leggo un passo, forse un nuovo rinascimento si avvicina, ma si tratta sempre di una scelta, di un impegno consapevole che ogni coscienza può assumersi. Ecco, allora secondo lei, ovviamente non svelandoci tutto quello che è sul libro, ma quale potrebbe essere il percorso da seguire per questo nuovo rinascimento? Io sono per la sintesi, ripeto, io non nego che negli ultimi tre secoli sia tutto da gettare via. È chiaro che la tecnologia materiale raggiunta in Europa è straordinaria, anche un maestro di yoga come Paramahansa Yogananda diceva che dobbiamo unire la spiritualità, la tecnologia spirituale dello yoga indiano con la tecnologia materiale europea e fare una sintesi, ma questa sintesi non è già bella e pronta, dobbiamo reinventarla noi e questo è avvenuto anche col primo rinascimento, uomini come Leonardo, Pico della Mirandola, Giordano Bruno, speriamo anche che fine ha fatto Giordano Bruno, hanno tentato questa cosa, è solo che il primo rinascimento ha lasciato opere straordinarie, però non ha inciso nella cultura, è rimasta una cosa di elite, è rimasta una cosa delle opere, diciamo così, da museo, invece adesso noi dobbiamo fare un nuovo rinascimento che raggiunga la società e questo noi oggi lo possiamo fare perché abbiamo maggiori mezzi di comunicazione e di divulgazione, infatti io ringrazio tutto l'editore perché questo è un saggio estremamente pericoloso, perché io cerco di portare queste conoscenze che da due secoli si cerca di non far arrivare alle persone, ricordo che uno dei primi traduttori del sanscrito di questi testi, l'inglese Jones, fine Settecento, disse in una delle sue lettere noi non dobbiamo far arrivare alle persone questa civiltà, perché altrimenti crollerebbe tutta la supremazia, tutto il potere che noi abbiamo fatto in Europa sulle masse, quindi questo io cito proprio dalle lettere di uno dei primi traduttori inglesi che hanno tradotto dal sanscrito questi testi, perché in questi testi c'è una conoscenza incredibile, poi se volete ne parliamo, ne parlo nel libro, ovviamente non voglio anticipare troppo. Sì, ecco, io quello che ho capito sia leggendo il suo libro, ma in generale riflettendo su questo tema è che c'è necessità ovviamente di un risveglio da parte delle persone, perché siamo, vediamo in questo mondo avvolti da questa matrix, questo termine abusato, ma per cercare di far capire un attimo la questione e quindi c'è prima di tutto la necessità di risvegliarsi, di aprire gli occhi, di capire che siamo avvolti da questa cappa che ci, come dire, che ci opprime e però allo stesso tempo, ecco, questo passo è, come dire, reso molto più difficile da il fatto che in Occidente, non so se questo mi può anche dare conferma lei, in Occidente spesso tutto quello che viene importato dall'Oriente viene sminuito o trasformato in un fenomeno di costume, senza però coglierne l'aspetto davvero, come dire, il nodo fondamentale che è quello poi di un risveglio e di una coscienza di sé superiore. Lei nota questa degenerazione in qualche modo in Occidente? Assolutamente, assolutamente sì, il nodo fondamentale è proprio questo, che sia le religioni dogmatiche sia lo scientismo sono materialiste, cioè comunque non si parla per esempio della reincarnazione e qui vorrei citare, e lo faccio nel mio libro, di uno scienziato che è stato un nuovo Galileo Galilei, il professor Stevenson, uno psichiatra americano che ha studiato per più di 30 anni i bambini che ricordavano una vita passata, lui è andato a verificare se questi bambini erano disturbati mentalmente o se realmente corrispondeva qualcosa di oggettivo a questi loro racconti e lui ha documentato per 30 anni che tutti questi bambini ricordavano nel dettaglio la vita precisa di un'altra persona e non solo questo, ci sono anche dei riferimenti somatici, questi bambini avevano nel corpo dei segni, sono nati con dei segni che corrispondevano alla ferita di cui loro dicevano di essere morti nel corpo precedente. Ora Stevenson ha fatto una ricerca scientifica, uno scienziato, il suo collega disse che Stevenson è il nuovo Galileo Galilei e come Galilei è stato ostracizzato dalla cultura ufficiale, ecco questo è il punto fondamentale, ecco perché è una scelta individuale, noi non possiamo aspettare che sia il potere a riconoscere che noi siamo altro oltre il corpo materiale, che siamo appunto qualcosa di spirituale. Poi questo qualcosa, detto così è vago, ma nel libro e soprattutto in questa letteratura è molto preciso, è molto dettagliato e lo yoga è un esempio di questa mistificazione, lo yoga da noi è ginnastica, vado a fare yoga, vado a fare Pilates, mentre lo yoga è una psicologia che ha di luce più avanti di Freud e di Jung e non è solo una ginnastica, non è proprio ginnastica, è una disciplina dell'anima e solo che per fare questo, come lei giustamente diceva, occorre uno spirito critico in grado di andare oltre la mistificazione che la cultura è ovviamente capitalistica, che mercifica tutto, cerca di fare anche con l'Oriente. Forse se posso aggiungere uno dei problemi è che in Occidente è più conveniente affidarsi magari a qualche politicante di turno che ci promette il benessere futuro oppure lasciarsi guidare da alcune forme di spiritualità manipolatoria pensando che poi possa salvare la nostra anima. Ecco, manca un po' all'uomo occidentale la capacità proprio di guardarsi dentro e di capire che deve da solo, attraverso un processo ovviamente che lei ravvede in queste pratiche di cui parla nel libro, può arrivare a una vera e propria liberazione dai lacci che lo legano a questo tipo di società repressiva? Assolutamente, assolutamente sono d'accordo perché in realtà poi sia le religioni sia la scienza dell'Ottocento positivista che cosa sono? Sono un non assumersi la responsabilità individuale, come dire ci pensano loro, ci pensa la scienza, ci pensa il dogma, ci pensa la gerarchia ecclesiastica, non lo devo fare io, mentre invece nelle civiltà antiche, ripeto non era solo l'India, ma parliamo di una civiltà che era globalizzata molti millenni fa, anche qui bisogna riscrivere un po' la storia che ci raccontano, perché la preistoria non è affatto quella che ci viene raccontata nei libri e su questo ci sono prove archeologiche molto molto potenti, che cito, invece per esempio il concetto di karma è questo, il karma nessuno può cambiarlo al posto tuo, siamo noi, neppure Dio in persona può interferire, il karma gli unici che possiamo modificare il nostro destino, se non vogliamo usare il termine Sanskrit o karma, siamo noi, però bisogna avere gli strumenti, bisogna avere il manuale e questi testi come i Purana ad esempio, che cito tanto nel libro, ci danno tutti gli step, tutti i tasselli per poter fare questo lavoro che però dobbiamo fare noi. Per quanto riguarda il futuro, è chiaro che noi non possiamo prevederlo con precisione e non possiamo certamente nemmeno sperare di, come dire, spingere al risveglio milioni e milioni di persone, si può diciamo così provarci, quindi secondo lei qual è la direzione? Cioè un lavoro sul singolo da fare con la propria interiorità e volontà, però è chiaro che vivendo sempre all'interno di questa società risulta poi in un certo senso una discrepanza tra quello che è la propria volontà di ritrovare se stessi e quello che è poi la società che ci circonda, quindi le chiedo se questo processo di risveglio, chiamiamolo in questo modo, può coinvolgere anche una comunità, una società, non soltanto il singolo? Assolutamente, non è una cosa individuale perché altrimenti viene l'idea, come ci sono degli esempi anche in India, dell'eremita, del praticante di yoga che se ne va nell'Himalaya, si cerca la sua grotta e raggiunge l'illuminazione da solo e poi gli altri sono a fare loro. C'è questo aspetto, ma quello è solo un aspetto, lo yoga che propongo io, che si chiama Bhakti in particolare, Bhakti yoga non è uno yoga solo individuale, ma è sociale, è collettivo e ci sono degli strumenti come i libri, la conoscenza, il suono, per esempio il mantra che è stato studiato nell'università americana ed ha degli effetti straordinari, gli stessi Beatles furono i primi a diffondere con le loro musiche questi mantra indiani, sono in grado di agire anche a livello sociale. È chiaro che, come diceva Gandhi, noi innanzitutto dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, perché se io mostro con la mia vita un esempio di civiltà diversa, posso essere, come è stato lo stesso Gandhi, un esempio, un'ispirazione per altre persone. Quindi in realtà quando cambio io, automaticamente sto creando un cambiamento nel mio ambiente e più persone lo fanno e più questo poi crea una sorta di reazione a catena. Io vedo che questo risveglio è già in atto e anche se è una minoranza, comunque è una minoranza di milioni di persone e non è poco, non è assolutamente poco, perché giustamente come lei diceva non puoi costringere milioni di persone al risveglio, anche perché l'anima è libera dal punto di vista profondo interiore, il desiderio dell'anima nessuno lo può costringere, però noi possiamo invogliare, possiamo, come diceva un vecchio detto indiano, portare il cavallo alla sorgente, poi il cavallo decide se è vero o no, non lo puoi obbligare, però intanto noi portiamo l'acqua e ci sono molte persone assetate, io vedo, ormai sono 15 anni che divulgo questo sapere in maniera autentica, anche perché ho conosciuto persone, ho avuto la fortuna di conoscere grandi studiosi di questa cultura, sia europei sia indiani e ho trovato persone che hanno cambiato la loro vita, non solo la loro ma anche attorno a loro, perché ripeto è una questione energetica, perché se io creo un fuoco, questo fuoco riscalda anche l'ambiente circostante, quindi in realtà c'è la possibilità di una trasformazione culturale e sociale, assolutamente. Mi sento di concordare con lei quando parla di esempio, perché questa è una cosa che in noto manca al mondo occidentale, cioè parlare in un modo e comportarsi in un altro, ecco io penso che si debba superare questa dualità tra il comportamento e quello che si dice e ritornare al vero esempio, perché facendo in questo modo si può dare non solo un messaggio a chi ci sta intorno, ma anche attraverso questo, siccome noi siamo anche energia, coinvolgere queste persone a un cambiamento vero ed effettivo. Io adesso siamo in conclusione, però le voglio fare un'ultima domanda, e come è arrivato ad interessarsi di questa specifica pratica dello yoga, diceva, e perché rispetto ad altre la colpisce particolarmente? Ma da un punto di vista esoterico potrei fare la battuta e dire che era scritto nelle mie vite passate, quindi è una cosa che porta avanti da più di una vita, però da un punto di vista di questa vita sicuramente io ho sempre avuto un'insoddisfazione, cioè ho sempre sentito che quello che questa società propone, la società moderna, ipertecnologica, era soltanto una sorta di illusione di Maya, come lei diceva di Matrix, che c'era dell'altro e questa insoddisfazione mi ha portato a desiderare un'ulteriore risposta e quando c'è il desiderio la risposta arriva, poi ripeto ho avuto la fortuna di incontrare per esempio Vecchiotti quando ho studiato Urbino Filosofia, che è stato uno dei più grandi orientalisti del Novecento e Vecchiotti era un sanscritista, un grande studioso, una volta mi disse se gli europei studiassero l'Upanishad seriamente o i Purana si farebbero un bel bagno di umiltà, imparerebbero che cos'è una civiltà veramente armonica sia con se stessi e soprattutto col mondo. E questo bagno di umiltà, diciamo ancora lontano, perché in realtà la società che noi vediamo attorno, come lei diceva, perché non si dà l'esempio? Perché c'è un'arroganza, l'arrogante pensa di poter dire una cosa e fare il contrario, ma i veri filosofi in realtà vivevano la loro filosofia, pensi Socrate, Giordano Bruno, sono morti, hanno dato il loro corpo, sono stati pronti a dare la vita del corpo fisico pur di essere fedeli alla loro idea. Ecco, io propongo appunto questa via, che non è la mia via, ma è la via di una vita più coerente, è una vita che ho cercato e che posso assicurare è molto molto più felice, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista spirituale. E allora io ricordo ai nostri telespettatori, se vogliono approfondire, saperne di più su quello di cui abbiamo parlato in questo appuntamento, potete leggere Idee per un nuovo, Rinascimento, tutte le conoscenze segrete per creare una civiltà più consapevole. Grazie Valentino Bellucci per essere stato con noi. Grazie a voi. E io vi ricordo che i nostri appuntamenti sono disponibili non soltanto sul canale 262 del Digitale Terrestre, ma anche sul nostro blog storico www.bioblu.com. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.